Grazie a tutti. Con questa trasmissione che questa televisione ha deciso di regalarvi, cosa facciamo, di cosa ci occupiamo? Proviamo a spiegarvelo perché comunque proviamo a spiegarcelo anche un po' da soli, che è il gioco che deve animare secondo me le situazioni che riguardano lo spettacolo e la cultura in generale, perché siamo in un punto di non ritorno relativamente a quella che è poi una situazione nazionale e molto calabra se vogliamo entrare nel particolare, ma dando un sostegno a coloro i quali hanno investito, un po' per essere stati scelti alla cultura, allo spettacolo, in tutte quante le forme possibili e immaginabili e che trovano delle difficoltà, ma anche degli enormi successi, ma che comunque, in ogni caso, continuano a scegliere questa via come possibile espressione di una terra che vuole parlare, che vuole avvicinarsi intanto al resto d'Italia, sperando poi, auspicando di avvicinarsi al resto d'Europa. Quindi voci da spazio a coloro i quali si occupano di cultura, di spettacolo dal vivo. Questa terza puntata abbiamo fatto una sorta di giro ideale, che poi verrà replicato anche nelle prossime puntate, in tutti quelli che poi sono gli spazi che verranno noi dedicati. La prima è stata dedicata alla musica e abbiamo scelto due nostri amici per farci compagnia, Massimo Garitano e Vertiana, così diciamo anche ai nostri ospiti che intanto non vi svegliamo. Abbiamo parlato poi di teatro e quindi un po' parlando di quella che è la situazione di un buon momento calabrese, rapportato poi invece a quelle che sono le situazioni politiche istituzionali molto negative, perché questo, come tante altre arti, viene sempre messa un po' a lato e quindi non sostenuta, o per meglio dire quasi per niente sostenuta, rispetto poi a quelli che sono degli investimenti che andrebbero fatti, rispetto ad una terra che avrebbe bisogno poi di rilanciarsi da un punto di vista culturale e assieme al punto di vista culturale riscoprire quella che poi è una sua vocazione turistica, cioè offrire dei servizi che probabilmente potrebbero far scoprire le bellezze quelle vere, visto che siamo famosi per le brutture, per le cattive notizie di cronaca, per il malgoverno in tanti casi e soprattutto per questa difficoltà a ingranare le cose, a farle andare avanti, a farle andare nella direzione giusta. Terza puntata dedicata paradossalmente dal piccolo schermo all'arte dell'occhio magico, secondo me, un po' per tornare a chi sa catturare delle immagini che comunque alla fine in maniera interdisciplinare si innesca sia sul mondo della musica che sul mondo del teatro. Questo è un mestiere che non ha memoria storica, nella maggior parte dei casi quello che noi perdiamo, una volta parlando di piccolo schermo, c'erano le edizioni ieri Rai che riuscivano a recuperare, a storicizzare quelli che erano i momenti importanti del cinema italiano, del teatro italiano, facendo poi delle collezioni straordinariamente interessanti che sono rimaste negli archivi di Mamma Rai. Poi pian piano quello che succede nello spettacolo al vivo viene un po' perso, ma succede che per quello che riguarda poi la musica, soprattutto alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, segna con un video che ricordo, un po' da paraculo DJ radiofonico, Video Kill the Radio Star, erano i bugle che lanciavano questo clip quasi sposando la forza imponente della televisione, del piccolo schermo, a voler lanciare poi un prodotto che difficilmente, perché una volta si andava automaticamente a comprare i vinili, 45 giri, 33 giri, gli LP, come volete chiamarli, poi sempre un po' di meno, perché la possibilità dei grandi mezzi di comunicazione, dalla televisione prima all'interno dopo, ci hanno restituito una difficoltà nel far conoscere su larga scala i prodotti di uso culturale, dagli spettacoli, ma soprattutto la musica, che sui video si è molto poggiata. E questa terza puntata è relativa ad un incontro mai avvenuto, sì è così, potrà sembrare strano, nel senso che c'è un personaggio curioso che si aggira come me d'altronde, perché non è una questione non tanto anatomica la curiosità del personaggio, ma è una questione di occhi, nel senso che fa parte del suo mestiere, quello di cattura delle immagini, e tu lo vedi sempre lì, mi sembra un po' abbarbicato, a guardare con uno sguardo che è un po' più profondo, quasi tridimensionale, rispetto alle cose che gli succedono e quindi anche alle cose, questa almeno è la mia sensazione. Ci siamo incrociati diverse volte, per motivi diversi, l'ultima volta che l'ho incontrato con una sua opera è stata l'anno scorso ad una manifestazione carina e importante, che è arrivata alla sua seconda edizione a Cosenza, che è il Non fermarti, questa 24 ore di insonnia creativa, dove mi hanno esposto in diverse sezioni, sia artisti che riguardano il teatro, la musica, il visuale, la fotografia, le arti visive, con una sua installazione, poi l'ho incrociato perché comunque ha collaborato e collabora con tante persone che fanno poi il mio stesso lavoro che è il teatro, per motivi diversi, un po' perché comunque si preoccupa di produrre e di girare dei video con una sua etichetta indipendente, con una sua casa di produzione. Lui è Fabio Rao, assieme a lui abbiamo anche Davide Embronio, che poi scopriremo il perché abbiamo deciso di fare questo incontro a tre oggi pomeriggio. Ciao Fabio. Ciao Fabio. Ciao Fabio, il suo Fabio è bellissimo. Grazie. Non è scritta però. No, non è scritta, non l'abbiamo scritta, l'abbiamo pensata credo. Grazie. La presentazione poi non è niente di che, se voglio dire, corrisponde alla realtà, poi è una suggestione mia personalissima. Però è questo che è lo che penso di te, no? Poi se vuoi catturare quelle che sono le immagini, ovviamente tu ci metti un pensiero personale. Ma come hai detto tu, chiaramente chi lavora con le immagini e soprattutto deve in un certo senso poi catturarle e renderle visibili agli altri, chiaramente forse ha uno sguardo un po' diverso rispetto alle persone che solitamente magari osservano e passano oltre senza soffermarsi. C'è quel tempo di pausa in più che ti fa pensare a quello che l'immagine ti può restituire dopo? Sì, sì, chiaramente. Osservare la realtà è il principio della comunicazione. Quanto diventa sofferenza questa cosa, questo tuo fermarti a guardare le immagini, che poi sono le immagini di quello che ci circonda, no? Che è il mondo contemporaneo, il quotidiano, quello che accade a noi tutti. Sì, quindi quanto ti causa sofferenza e quanto poi diventa proprio per questo stesso motivo anche mestiere? Cioè nel senso che tu da un qualsiasi episodio, mentre stai in macchina, andare a pagare le bollette, quindi fare le cose più normali, da quanto cogli quelle suggestioni? Beh, chiaramente ogni cosa diventa una base di ispirazione. La sofferenza, io sono molto dedicato alle opere che trattano principalmente anche temi sociali. I temi sociali si ripresentano in vari lavori, sia quelli di finzione, sia quelli di natura documentaristica. Ad esempio ho realizzato una serie di progetti, io sono cittadino italiano, ma sono nato e cresciuto in Etiopia, quindi ho vissuto un po' l'esperienza della fuga, in un certo senso, da un paese che all'epoca era tormentato dalla guerra. E quindi sulla base di questa esperienza poi mi sono dedicato a un progetto che si chiama Mamma Italia, che racconta in un minuto l'esperienza dei migranti che sono riusciti a inserirsi nel tessuto professionale. Quindi c'è una forte connotazione di natura sociale all'interno dei miei lavori, però poi chiaramente anche nei lavori di finzione tratto temi che possono parlare di aspetti quotidiani della vita, ma anche semplicemente elementi di creazione che sono privi magari di... Cioè in realtà lo spunto poi per quello che a tutti quanti noi, insomma da chi fa teatro, a chi fa cinema, a chi fa musica, e poi la contemporaneità e l'oggi è quello che ci stimola, che ci preoccupa, ma che ci dà anche la possibilità di svolgere quella che poi in realtà è la nostra funzione sociale, parlare direttamente alla maggior parte di pubblico possibile, raggiungerli e provare a consegnare loro il nostro messaggio, che può essere insomma il più diverso e disparato ovviamente. Però c'è l'obiettivo di arrivare al maggior numero di persone possibili attraverso un pensiero personale? Chiaramente credo che l'auspicio di qualunque artista, in un certo senso quando si propone davanti ad un pubblico e vuole rivolgersi ad un pubblico, vuole farlo ad un maggior numero di persone possibili. Però credo che la cosa importante sia non tradire il messaggio di fondo, cioè non tradire esattamente quello che hai detto tu prima, non tradire il punto da cui si è partito, il punto che ha ispirato eventualmente un determinato tipo di lavoro. Quindi sicuramente l'auspicio di un regista, di un filmmaker che fa lo stesso lavoro mio è quello di raggiungere un maggior numero di pubblico attraverso il suo messaggio però, senza doverlo mai tradire. Perché tradendo il messaggio chiaramente si perde la verità e se si perde la verità non c'è... Voglio dire, nel senso che quello che si fa lo si fa per arte e l'arte non va tradita, questo è il senso di tutto ciò. Ma gli ideali non vanno traditi, in un certo senso, ma poi è un discorso molto ampio. È ampio proprio per questo motivo, nel senso che non è in contraddizione con quello che tu dicevi in questo momento, l'arte non è fine a se stessa, comunque è qualcosa che va rispettata, va protetta, va... E' un po' ripescare, tu parlavi prima di quelle che sono le tue origini e quindi tornavamo per un attimo, siamo tornati all'Etiopia e guardiamo a questo discorso di rapporto di un'Italia che è stata una terra di grandi fenomeni di immigrazione, che adesso però si riscopre paradossalmente una terra che diventa in alcuni casi, un po' per volontà della politica, poco ospitale rispetto alle persone che arrivano e che sono quasi sempre persone che vengono da un po' tra virgolette i paesi del terzo mondo, io mi sento un po' più terzomondista dei terzomondisti reali, ma ci scopriamo una terra che diventa poco accogliente e storicamente non siamo così, perché noi siamo quelli che a Ellis Island arrivando negli Stati Uniti o nel Sud America venivamo messi in quarantena perché dovevano spidocchiarci prima di fare qualsiasi altra cosa e molti di noi, molti dei nostri avi sono rimasti chiusi ma addirittura sono rimasti nell'impossibilità poi di tornare dalla terra dal quale erano partiti proprio per una mancanza di economia e questa è, ritengo, la difficoltà che il fatto di perdere la memoria storica ti danno, nonostante voglio dire che ci sono delle trasmissioni importanti, anche televisive, che vengono promesse o collocate in dei palinsesti che sono in orari proibitivi. Molti dei nostri figli delle generazioni perdono questo rapporto, pensano che noi siamo una terra che è sempre stata così, un po' a tarallucce e vino, ma poi non è così. Assolutamente no, purtroppo sì, noi italiani in un certo senso io poi mi trovo, appunto tu hai citato l'Etiopia come nazione che venne in un certo modo conquistata ma mai realmente colonizzata dall'Italia. Io sono un po' in una sorta di limbo quando si tratta di questi due paesi, l'Italia e l'Etiopia, che quando si mettono a confronto, cioè quando io viaggio, io rimango sempre in questo limbo di straniero, perché quando vengo in Italia mi dico ah ma tu sei etiope, quando vado in Etiopia mi dico ah ma tu sei italiano, quindi c'è questa cosa di simpatica poi tra l'altro, però mi rendo conto che l'accoglienza, parlando in termini proprio di oggettivi, di quello che poi succede appunto quando viaggi, credo che l'accoglienza in Etiopia sia completamente diversa. Gli italiani, nonostante loro siano stati gli invasori, quindi i demoni in un certo senso se vogliamo, sono ancora ben accolti, sono ben visti e ben voluti, cioè in parte della mia famiglia italiana vive ancora lì, quindi sono addirittura, fanno parte proprio della comunità. Diversamente invece come appunto hai ben sottolineato tu, per motivi politici e peraltro, immigrati etiopi, tranne in rarissimi casi, vengono comunque confinati come venivano confinati gli italiani immigranti, che all'epoca i migranti che insomma si trasferivano in cerca di fortuna, che poi tra l'altro credo che sia una necessità a spingere questi movimenti, queste migrazioni. Assolutamente sì, poi comunque se crediamo veramente in quello che può essere un mondo che è globale, che è globale dal punto di vista della comunicazione, si alzano delle barriere che ritengo quasi, vabbè, al di là del fatto che sono realmente insopportabili, ma c'è quasi una volontà dietro tutto ciò, quindi non può che essere un disegno politico, che ciò che diamo a mangiare alle persone che guardano le cose che facciamo diventa molto importante e quindi torna al fatto che bisogna assumersi una responsabilità nel fare un mestiere come quello che facciamo noi, perché è comunicare a 360 gradi e questo… ecco perché dicevo appunto che bisogna tradire non tanto l'arte in sé, perché insomma quella chiaramente non si tradisce, nel senso che alla fine si fa sempre arte, anche purtroppo quando c'è… nei casi in cui chi lo fa in maniera sbagliata viene reputato anche artista o comunque… il punto appunto è questo, non perdere mai… cercare di arrivare con il messaggio veritiero, alla fine, cercare di comunicare quello che è l'essenza del metacolo, soprattutto in Italia appunto dove… Arriviamo alla tua… alla produzione che hai, come si chiama? Ha subito varie trasformazioni, all'inizio era Logos Filmmakers, che è quella che ha prodotto gran parte dei lavori fino a un anno fa, e poi è nata The Maniacs, che è un progetto nuovo che si occupa appunto di vari aspetti della produzione video, da videoclip a pubblicità e quant'altro, documentari, quello che insomma… Nella parte proprio della costruzione del pensiero, ti appoggia delle persone che scrivono anche per te dei soggetti o comunque hai una… funzioni più che doppie in questo… A volte anche triple, quadruple, nel senso che delle volte capita che hai dei progetti in mente che non… buona parte dei progetti li scrivo io, non mi ritengo un autore, ma insomma mi capita di scrivere soggetti, se anche le sceneggiature, tra l'altro è quello che ho studiato, sceneggiature, quindi mi capita spesso di scriverle, di pensarle e poi di realizzarle, molto spesso anche di montarle, naturalmente ci sono delle collaborazioni con alcuni direttori della fotografia, molto bravi a Cosenza, conosciuti, che realizzano anche a loro volta i loro lavori, però chiaramente in un territorio dove è difficile uscire fuori per strada e trovare gente che fa questo mestiere, non sei a Roma, non sei a Napoli, non sei a Milano… Ci sono i grandi confronti, insomma… Quindi è difficile, non c'è la formazione di base, non c'è… ci sono le produzioni ma che vengono da fuori, pochissime cose partono dal territorio per affacersi al mondo del cinema fuori, sono quelli che vengono da fuori, che solitamente realizzano e poi portano via il prodotto, quindi tranne quei pochi che hanno avuto la fortuna di stare sui set, diciamo che è difficile per confrontarsi, quindi ti tocca fare un po' tutto e delle volte anche impari da persone oppure ti capita anche di insegnare con molta umiltà delle cose che… Tu supporti, diciamo, e affianchi la produzione di clip di band tra virgolette per gente, insomma esistono da un poco, quindi si sono ritagliati uno spazio importante anche dal punto di vista nazionale. Tra questi volevo infatti chiedere alla regia se poteva mandarci questo video di Miss Foylen che tu hai girato e che ha avuto tantissimi riscontri importanti. Sì, è stato positivo perché è partito come un'idea, in una stanza, mi ricordo che io Giulio, il cantante, nonché anche il produttore, Giulio Ancora che è anche il produttore, che è uno dei pochi che vive un po' i settori calabresi, è partito da una stanza mentre noi parlavamo di questo nuovo video che volevamo realizzare, è uscito fuori così, per scherzo, il nome anche di Paola, cercavamo di capire se poi effettivamente potevamo averla su set, quindi abbiamo mandato la sceneggiatura, Paola Barale, abbiamo mandato la sceneggiatura sia a Paola, insomma l'abbiamo cominciato a far girare e lei ci ha risposto, anche perché Giulio la conosceva già per un altro set, un altro film che era venuto a realizzare, che era Vorrei vederti ballare mi parla. Ah sì, che sono film che hanno girato qui? Sì, e poi ho una domanda da farti anche da questo punto di vista, mi sono interessato. E quindi poi Paola ha accettato, è venuto, ha girato il video, siamo stati contenti e ha avuto molti riscontri, il video chiaramente è un video un po' sempre ritornando al discorso del comunicare alla maggior parte di persone che magari può essere inteso su vari livelli, sono state dette molte cose sul video, sono state dette cose anche non vere, perché mi hanno detto che sono un devoto ammiratore di Leo, che in realtà avrò visto Calibro 9 in realtà, forse per l'Alfa. A me è una citazione che piace. Sì, sì, no, mi piace pure a me, però in realtà ne ho visto solo uno di film, purtroppo magari ne avrei voluti vedere altri, ma sono state anche dette altre cose, insomma, poi di fondo quello che ho voluto comunicare in parte è stato colto, in parte no, però chiaramente fa parte anche questo di… Ma poi ritengo che da questo punto di vista bisogna lasciare i sospesi, i pensieri, le riflessioni, perché se vogliamo veramente fare qualcosa per il pubblico, poi è giusto che il pubblico in un certo qual modo sia sovrano, cioè noi viviamo con questo rapporto, quindi per nacchi applausi è qualcosa che ci spetta nella stessa parte, nel senso che non possiamo pensare di indovinare sempre tutto. La cosa che mi ha colpito di questo… hai un modo strano di girare, questo approccio che tu hai mi piace in maniera particolare, ecco perché dico che ci siamo spesso e volentieri incrociati, ma poi mai confrontati come magari sta succedendo oggi. E questa mi sembra una cosa interessante, di crescita anche per me e soprattutto per me, per questa poi trasmissione. L'utilizzo dei colori, questo mi sembra interessante, questo fa un lavoro interessante e poi la scelta, no? La scelta anche… questo è un posto che volevo chiederti dove è perché penso di aver riconosciuto alcuni dei posti. la stradale, non ricordo come si chiama, è quella che porta da Camigliatello verso il lago Cecita e c'è… non so se è una riserva sulla destra. Ci avevo pensato perché vedevo questi alberi che erano totalmente grandi e sconfinati così… Sì, è una strada che in realtà poi ti riporta di nuovo a… dov'era, non ricordo… comunque è nella zona del Cecita, intorno al Cecita. Intorno al lago Cecita. Sì. Che è una possibilità, da quanto poi, se tu pensi, no? Al viaggio che può fare fare la musica. Bene. Anche un nome, quello della Barale, che certamente poi garantisce un livello di veicolazione del prodotto ancora più veloce, se vogliamo. Ci sono poi, ricordiamo, degli altri attori di matrice di origine calabra, una delle quali riconosco a video è Stefania Sardo, con una bella panza finta. È incinta, in questo caso che è incinta. Ma non lo sa, è incinta, ma non lo sa, nel senso, all'interno del video. Quanto poi può questo tipo di materiali, questi tipo di materiali possono, se pensati, se supportati, diventare poi veicolo di una terra che dovrebbe un po' mettersi in vetrina. Io sono Amsterdamiano, però potrebbe essere invece serissimamente presa in considerazione, perché ha voglia a parlare. Noi diciamo che siamo una terra che quasi può passare dal mare alle montagne e così via, mancano i servizi, nessuno ne parla e quello che facciamo vedere non è anche bello, se non i cartelli, quelli con un po' di fori strani, fatti in maniera posticcia. Chiaramente la Calabria, io sono stato uno di quelli che, pur non essendo profumato, cioè non sono nato in Calabria, la Calabria è una terra che mi ha adottato, ho sempre sostenuto che le potenzialità di questo territorio sono enormi. Ci sono dei posti dove tu vai, li vedi per la prima volta e non ti sembra neanche di essere in Calabria, che appunto magari sono completamente sconosciuti, quindi per delle eventuali possibilità di produzione cinematografica, televisiva, eccetera, è un territorio che piano piano forse si sta riscoprendo, però potenzialmente potrebbe fare mille volte di più. La Calabria potrebbe diventare tranquillamente un territorio magico del cinema, perché possiede tutto. E qui arriviamo alla domanda un po' strana, perché noi dobbiamo poi presentare il nostro secondo ospite, terzo, perché anche io sono ospite di me stesso, quindi siamo in tre in realtà. Quanto poi ci sono delle occasioni mancate? Perché c'è, devo dire una, citavi prima Giulio Ancora, e da questo punto di vista negli anni, perché faccio questa esperienza anche all'Università della Calabria, attraverso il Dams ho incontrato delle persone che hanno una buona creatività, un buon occhio e soprattutto una grande sensibilità, ma anche nella realizzazione di cose piccole che io ho visto, può essere lo spot microscopico o il messaggio di comunicazione. e lì si vede che c'è un taglio di una dimensione che è fuori da questi confini, diventa importante, quindi vuol dire che ci sono culture che si sposano, confronti importanti. Quindi voi avete questa possibilità, la possibilità in questo momento di confrontarvi anche con una buona generazione che è venuta fuori dalle esperienze formative Calabria, che sono quelle delle scuole di teatro, che ti danno la possibilità di incontrare il materiale umano con il quale confrontarti. Musicalmente succede la stessa cosa perché c'è una buonissima generazione di giovani musicisti, c'è da colmare il gap con le istituzioni, o sbaglio? Chiaramente sì, perché noi spesso e volentieri quando cerchiamo di tirare fuori dei prodotti che non sono commerciali, quindi a noi capita di fare anche degli spot televisivi per aziende anche importanti calabresi, lì veramente la strada è completamente spianata, trovi l'azienda che ti finanzia il progetto, quindi finisce lì a posto. Quando invece si tratta di progetti essenzialmente personali che magari vorremmo realizzare, ci rendiamo conto che effettivamente non abbiamo nessuna via di comunicazione, quelle poche volte che si comunica con le istituzioni ahimè purtroppo lo si fa durante le elezioni, noi realizziamo molte campagne elettorali ma poi non posso citare una che mi ha fatto molto ridere perché è un amico comune, devo dire che c'è stata un'idea illuminante che hai avuto. Proseguendo e chiamando la nostra regia Vittorio quindi, Camera237 si chiama Carry On, noi facciamo un attimo una pausa, ripartiamo da questo video di Camera237 che è un video che vede anche dei protagonisti che lavorano con te, che hanno collaborato in questo video in locale, che vengono fuori da situazioni formative e contemporanee che si stanno realizzando ora e poi parliamo di quello che vogliamo presentando e poi introducendo Davide Inbrogno. A tra un po'. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.